Nello svolgimento di un'intensa attività di antibracconaggio, i carabinieri forestali hanno riscontrato diversi reati. In particolare i militari della stazione Carabinieri di Focesele, a seguito di appostamenti in località Focesele di Eboli, hanno sorpreso quattro cacciatori che avevano abbattuto diversi esemplari di specie protetta e più precisamente pispole, ballerine, bianche e verzellini. I militari hanno provveduto ad identificare i cacciatori e a sequestrare le armi e le munizioni in loro possesso. Quattro fucili e 68 cartucce. Inoltre, dopo un'attenta ispezione dei dintorni, i militari hanno rinvenuto e contestualmente sequestrato anche due richiami acustici illegali. I militari della stazione di San Cipriano-Picentino, coadiuvati da guardie volontarie e venatorie del nucleo di Ponte Cagnano dell'Associazione Nazionale Guardia Rurale Ausiliaria, hanno scoperto in località Malche e di Giffoni Sei Casali, all'interno di un terreno privato, un sistema mobile finalizzato alla cattura di avifauna selvatica, nello specifico cardellini, specie particolarmente protetta. Il sistema era composto da una rete, una maglia e alcune funi, azionando le quali il sistema scatta per intrappolare gli uccellini attirati dal canto di alcuni cardellini detenuti in gabbie nelle immediate vicinanze della trappola. A seguito di accurata ispezione dei luoghi, i militari hanno rinvenuto altri dieci esemplari di cardellino. Oltre quelli usati quali i richiami, detenuti in una barracca in lamiera, hanno quindi proceduto all'immediato sequestro del sistema di cattura e degli esemplari rinvenuti. In tutto 13 carduelis, i quali però, inabili al volo, sono stati affidati al centro di recupero fauna selvatica il frullone di Napoli. In entrambi le operazioni si è provveduto a deferire all'autorità giudiziaria i responsabili delle attività illecite. in tutto 5 persone.